Gli asparagi devono essere freschi. Si spezzano facilmente dove c'è la parte coriacea che però non va buttata perché può essere usata per fare una minestra. Adesso parto dall'alto verso il basso con un pela verdure. Delicatamente tolgo la parte più fibrosa. Una volta puliti li sciacquo sotto l'acqua. Pulire gli agretti è molto semplice. Si taglia la parte della radice che è la parte più dura e che di solito è appena sotto l'elastico. Si controlla se sono rimaste delle parti dure tipo queste che devono essere tagliate. Si trasferiscono gli agretti in un muscolo pasta, si separano un po', si eliminano le parti dure eventualmente rimaste e si sciacquano sotto l'acqua tiepida. Dico acqua tiepida perché così è più facile che venga via tutta la terra.